Vladimir Luxuria ha recentemente risposto agli insulti ricevuti sui social media dopo aver postato una foto in bikini. In un'intervista al Corriere della Sera, Luxuria ha spiegato la sua reazione e la sua opinione sugli hater online. Prima di raccontarti cosa hanno detto all'ex presentatore dell'Isola dei Famosi, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie mille. La conduttrice ha risposto agli insulti con un messaggio diretto. La dedico agli haters, gli sfigati e i frustrati dei social. Fatevi una vita! Nonostante l'ondata di messaggi negativi e commenti offensivi, Luxuria ha mantenuto la sua serenità. Ha dichiarato, ma io dico, perché mi seguono? Riferendosi agli autori degli insulti come «poveri frustrati», ha sottolineato che non vuole perdere tempo ed energie con loro. Luxuria ha spiegato che il post in bikini era spontaneo, scattato sulla spiaggia di Mari Pintao in Sardegna, e non aveva l'intenzione di mettersi in mostra. È stato un gesto spontaneo, mica volevo darmi aria da Sirenetta o da Miss Italia. Ero in spiaggia, e in spiaggia non ci vai con il cappotto. Luxuria ha imparato a non farsi influenzare dagli insulti online, trovando valore nella vita reale e nei rapporti umani diretti. A vivere la vita reale, a vedere le persone negli occhi, ai loro sorrisi, a un'esperienza tattile. Per lei, G-hater, sono solo persone frustrate, incapaci di costruirsi una vita propria, e quindi pronte a criticare quella degli altri. Luxuria ha chiesto a Danilo Zanvit-Stecker, il suo amico speciale, di non rispondere più ai commenti negativi. Gli ho chiesto di non replicare più a queste persone. All'inizio se la prendeva tanto e scriveva a tutti. Riguardo alla possibilità di una legge contro l'omotransfobia in Italia, Luxuria ha espresso una visione critica. Crede che le pene più severe non siano la soluzione migliore. Quello che manca davvero sono le campagne di sensibilizzazione all'inclusione e al rispetto. Ha criticato il governo per la mancanza di iniziative educative contro l'omotransfobia, sottolineando l'importanza di educare e sensibilizzare piuttosto che punire.